Marcello Costruzioni Dopo una vacanza, dopo il lavoro, dopo tanto tempo amiamo tornare in luoghi piacevoli dove troviamo o ritroviamo i ricordi della nostra memoria luoghi che si trovano in noi, che tornano da noi chiamiamo questi luoghi casa Marcello Costruzioni, via San Rocco 24, San Salvo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti